Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato il cimitero di Quotzenheim nell'est della Francia dove un'ottantina di tombe ebraiche sono state profanate. Il presidente con la kippa al fianco del rabbino capo francese è rimasto in raccoglimento diversi minuti e ha poi annunciato provvedimenti severi verso i colpevoli. Purtroppo un gruppo di persone, piene d'odio, hanno fatto ciò che altri avevano già osato fare per molti. Sono qui per mostrare la solidarietà di tutta la Francia, insieme la vergogna che proviamo. Siamo determinati a lottare contro l'antisemitismo in tutte le sue forme. Le tombe sono state imbrattate di sbastiche blu e gialle e su una sepoltura è apparsa anche la scritta in tedesco, lupi neri alsaziani, probabile riferimento a un gruppo autonomista alsaziano attivo negli anni 70. La visita del presidente francese coincide con il giorno in cui in tutta la Francia sono state indette diverse manifestazioni contro il proliferare di atti antisemiti.